Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi a grande richiesta vedremo le differenze tra la versione fan e la versione player della prima maglia del Paris Saint Germain per la stagione 21 e 22. Le maglie sono entrambe molto belle ma nella versione player il tessuto devo dire che fa veramente veramente la differenza. Io in questo caso ho una netta preferenza per questa versione. Nella versione player lo stema del club e il logo Jordan sono termosaldati mentre nella versione fan sono ricamati. La versione player è realizzata con la tecnologia dry fit advance mentre la versione fan è semplicemente la tecnologia dry fit. contro luce si vede come la trama della maglia player sia veramente più traspirante per dar maggior comfort ai giocatori. Sul canale trovate diverse comparazioni perché mi piace vedere le differenze che ci sono tra le varie versioni e se in alcune come ad esempio quella del Tottenham o del Manchester City la differenza tra la versione fan e player non sono così marcate devo dire che in questa in realtà sono abbastanza evidenti. Secondo me la versione player che è questa qui che ho in mano risulta molto meglio fatta, molto più bella della versione fan. Ora vi lascio, spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao!